Cari concittadini, come avevamo promesso il Comune di Sansevero si sta impegnando e non poco per bonificare il nostro agro. Attraverso un progetto promosso dal settore ambiente in collaborazione con il Comando di Polizia Locale stiamo bonificando le nostre campagne. Oggi ci troviamo in Contrada Vignali, alle mie spalle il sito si presentava così, con dei rifiuti abbandonati, molti dei quali altamente nocivi per la salute pubblica proprio perché si trattava di Eternit. Dopo questa attività di bonifica oggi, 2 novembre, il sito si presenta in questa maniera, completamente pulito, bonificato. Proseguiamo in questo impegno e ringrazio il Comando di Polizia Locale e il settore ambiente per aver sposato a pieno e con passione questa volontà dell'amministrazione di contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti e di bonificare il nostro agro a tutela della salute pubblica. Qui invece ci troviamo in Contrada Cicero Bianco, a ridosso della tangenziale est di San Severo, ed il sito che è alle mie spalle è stato nei mesi scorsi una vera e propria discarica a cielo aperto, dove alcuni nostri concittadini, che non esito a definire delinquenti, venivano a scaricare ogni tipo di rifiuto. Uno di loro addirittura nel mese di luglio si prese carico di appiccare il fuoco su questi rifiuti, creando un danno e un pericolo per la salute pubblica non indifferente. Come ho detto, noi su questo punto andiamo avanti, l'amministrazione comunale, con il Comando di Polizia Locale, con l'autorità giudiziaria, stiamo portando avanti un'attività poderosa per individuare i colpevoli, attraverso l'approvvigionamento di alcuni dispositivi di sorveglianza che stiamo disseminando nel nostro agro e che stanno dando dei frutti molto positivi. Nei prossimi giorni verranno anche utilizzati dei droni che solvoleranno il nostro agro proprio per monitorare alcuni movimenti strani. Vi voglio leggere alcuni risultati di questa attività di indagine che stiamo portando avanti. Ad oggi, ed è il 2 novembre del 2020, ci sono stati sanzioni amministrative per 92 abbandoni di rifiuti, 12 autocarri sono stati sottoposti a sequestro, 14 persone sono state denunciate e sono attualmente indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Sono stati elevati, adottate 5 misure cautelari per incendio di rifiuti, due proprio qualche giorno fa. Si punta molto sul sequestro dei mezzi, ma noi andiamo avanti, abbiamo bisogno però anche della vostra collaborazione e in anonimato, in maniera riservata, come ritenete, segnalateci ogni situazione sospettosa, ogni situazione che possa essere strana, ogni movimento sospetto, segnalatelo, perché attraverso questi dispositivi noi riusciamo ad individuare i colpevoli e a sanzionare, sia da un punto di vista amministrativo, ma anche penalmente quello che è proprio un fatto criminoso che costituisce ed integra una fattispecie di reato. Noi andremo avanti con la bonifica dei nostri siti inquinati e con l'attività di indagine per interrompere questo fenomeno delinquenziale. Il sito alle mie spalle, che sino a qualche tempo fa era una discarica a cielo aperto, oggi si presenta così, pulita, sgombra da rifiuti e della vittoria delle persone per bene, che voglio che in questa situazione si sendano tutti coinvolti, perché insieme possiamo eliminare, fermare questo fenomeno criminoso che mette a dura prova il nostro agro e la salute pubblica dei nostri concittadini.